Salate Mauro Salate Dopo tre mesi Mauro Salate Torna a segnare E la Lazio ha in vantaggio Dopo un minuto e 28 secondi Sì, prima parlavamo della posizione di Mauri Che permette alla squadra Di svariare un po' su tutto il fronte d'attacco Qui fa un movimento bellissimo Servilo Rasculli Si inserisce E mette una grandissima palla a Salate Quindi saranno fondamentali i movimenti di Mauri E qui li ha dimostrato subito L'attacco di Mauro Salate Che prova a liberarsi Mauro Salate Prova a mettere dentro una deviazione Antonioli Va a fermare un pallone Che era diventato pericolosissimo Salate che prova ad andarsene Prova a saltare Von Bergen Salate Guadagna il primo calcio d'angolo per la Lazio In area Biava e Dias Pericolosissimi sui palloni alti Hernanes Antonioli Bravissimo Antonioli Per spingere sul colpo di testa Pericoloso di Biava Salate che va dentro Salate Sculli La parata di Antonioli Con l'aiuto del palo Sul colpo di testa di Beppe Sculli Sculli Hernanes Ora Hernanes Prova col destro Parata di Antonioli Sul tiro di Hernanes Mauri Maura Mauri Dentro per Sculli Siste Sculli Prova a liberarsi Va dentro Sculli la mette in mezzo Arriva Gonzales Il tiro è stato respinto Ancora un'occasione per la Lazio Malonga Si sta liberando a destra Ceccarelli Qui c'è Caserta Dentro per Ceccarelli Ancora Ceccarelli Caserta Muslera Per vento di Muslera Grande occasione Qui per il Cesena Chimenez Rischi Fermato da Biava Ma la palla rimane al Cesena Che sta attaccando ancora Siste il Cesena Santon Prova la conclusione Palla sul fondo Brocchi Brocchi a cercare Sarate C'è Sculli Già in area di rigore Siste Sarate Prova a rientrare Ancora Sarate Sarate Prova il pallonetto Sarebbe stato un gran gol Arriva il fischio finale Tre punti pesanti Per la Lazio Che torna in zona Champions League Arriva a quota 54 Riparte nel migliore Dei modi dopo il derby Grazie al quinto gol In campionato Di Mauro Sarate